Vigilia di Natale, è mezzanotte. Ora essi sono tutti inginocchiati, disse un anziano a noi seduti in gruppo, ben crogiolati presso il focolare. Ci fingemmo le miti creature entro il loro ricovero di paglia, né ad alcuno di noi venne il pensiero che non fossero appunto genuflessi. Tanta leggiadra fantasia chi mai tesserebbe in questi anni? Pure io sento che se in quell'ora un tale mi dicesse vieni a vedere i buoi inginocchiati nella solinga fattoria a valle che nell'infanzia avemmo familiare? Lo seguirei tra l'ombre della notte sperando in cuore fosse proprio vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.